Ciao Rattilover, stai cercando un'auto spaziosa ma sportiva? Seat Leon, 1.6 di cilindrata, 115 cavalli, allestimento Style. Parliamo di un'auto aziendale, immatricolata nel 2019, quindi certificata e garantita perché, come tutte le nostre autovetture, deve aver superato il test dei 100 punti di controllo dei nostri Automotive Expert ed è in splendide condizioni, come vi mostro tra poco. Elegantissimo questo color bianco Nevada per un'autovettura alimentazione diesel che consuma in media 4 litri ogni 100 km. Le scanalature sulla carrozzeria la rendono ancora più dinamica e briosa. Gruppo ottico anteriore con illuminazione Seat Lighting, mascherina con bordatura cromata e fari che si allungano sulla fiancata. Bellissima la forma colpita degli specchietti retrovisori esterni che sono anche bicolor. Barre al tetto cromate, striscia in nero lucido a separare la finestratura, sensori di parcheggio posteriori. I cerchi sono in lega multirazza da 16 pollici e vediamo insieme le condizioni del battistrada che sono davvero perfette. Il bagagliaio con luce di cortesia parte da una capienza di 380 litri. Abbattiamo i sedili posteriori con questa pratica leva e lo spazio arriva a 1210 litri. A disposizione anche una pratica presa da 12 volt. Bellissimo e super curato l'interno delle portiere in tessuto, effetto soft touch. Agevolissimo accedere all'abitacolo che è spazioso e super luminoso grazie anche al tettuccio chiaro. Vediamo insieme le sedute che sono in tessuto ergonomiche con sostegno laterale e dotate di attacchi isofix a entrambe le sedute esterne posteriori. Seduta centrale inoltre diventa un pratico bracciolo con poggia bibite e abbiamo a disposizione anche una botola che dà accesso direttamente al bagagliaio. Alla fine del tunnel centrale troviamo le bocchette dell'area azione dedicate ai passeggeri posteriori. Tasca porta tutto dietro i sedili anteriori. Solo 24.000 km percorsi. Bellissima e di design è la plancia dove possiamo trovare tutto ciò che ci occorre sia a livello di tecnologia che a livello di sistemi di assistenza alla guida. Maneggevolissimo il volante in pelle con cuciture a vista e dotato di numerosissimi tasti tra cui il comando vocale. Quadro strumenti incastonato nella plancia e protetto dai raggi solari. Al centro troviamo un praticissimo display touchscreen del quale è possibile gestire tutto l'infotainment. Dalla radio ai media possiamo connettere il nostro smartphone attraverso bluetooth oppure con il pacchetto full link che comprende mirror link, apple carplay e android auto. Possiamo anche accedere a tutte le impostazioni di setup della vettura. Inferiormente troviamo la gestione del clima attraverso queste praticissime manopole. Vano porta oggetti con doppia presa USB e ingresso AUX. Il cambio è automatico. Il freno di stazionamento è elettrico. Doppio porta bibite. Un ulteriore vano porta oggetti. E il bracciolo dedicato al guidatore è estendibile e contiene un ulteriore vano porta oggetti. Super avvolgenti e confortevoli sono i sedili anteriori con sostegno laterale e supporto lombare morbidissimi. Insomma non puoi certo lasciartela scappare. Corri subito sul nostro sito rattiauto.com dove potrai trovare questa e tantissime altre autovetture in pronta consegna. Potrai riservarle senza impegno per 7 giorni con soli 100 euro e riceverle direttamente a casa tua in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi garantiti. E non dimenticare di seguirci su tutti i social e di cliccare sulla campanellina del nostro canale YouTube. Alla prossima auto! Ciao! Ciao! Ciao!